Ben tornati ad una nuova edizione di Quotidiano TV del 29 dicembre. Iniziamo con la cronaca regionale. 30.000 pezzi di materiale pirotecnico non a norma sono stati sequestrati dalla polizia locale in un negozio in via Padova a Milano. Il titolare dell'esercizio commerciale, un cittadino di origine cinese, è stato denunciato dagli agenti per la detenzione e la vendita di antipetardi, fontane, fuochi d'artificio e altri oggetti dello stesso tipo privi del marchio di certificazione. Se utilizzato tale materiale avrebbe potuto causare gravi lesioni alle persone. È accaduto domenica in via Giulio Carcano, in zona via Giovanni di Accermenate, a Milano. Si è presentato assieme al padre ad un appuntamento per ritirare un pacco, ma ad aspettarlo c'era una donna e un uomo. Lei con in mano un secchiello contenente una sostanza acida e lui con un martello. La donna è riuscita a versare addosso al giovane la sostanza, procurandogli ferite al volto e all'addome, mentre l'uomo è stato bloccato prima che potesse colpirlo con il martello. Il giovane, un 22enne di cui per il momento non sono state fornite le generalità, è stato ricoverato all'ospedale Liguarda. Le sue condizioni comunque non sono gravi. L'aggressore invece è stato fermato dagli uomini della polizia intervenuti sul posto. Ancora da chiarire dettagli, pare comunque che all'origine dell'aggressione vi siano motivi sentimentali. Il ritorno della compagnia dei legnanesi I legnanesi quest'anno annunciano che vogliono riscoprire la vita dei cortili. Vogliamo essere il retro. Sembra una non notizia, ma Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Luigi Campisi, la famiglia Colombo al completo insistono. Torniamo alle origini, siamo un teatro del popolo per il popolo, annunciano ingranando la marcia retorico-patriotica. Recuperiamo il modo di vivere di un tempo con scene comiche e balletti. L'unica compagnia di rivista attiva in Italia, Biglietto d'Oro per il quarto anno, si prepara alla prima inveglione di 31 dicembre al Nazionale, con la finestra sui cortili. Titola alla maniera di Hitchcock, seguendo vecchie mode, ma primo e l'unico non ripreso dal passato. Tutta farina del gruppo insieme da 12 anni, con due re di doc, come Sandra, la figlia di Felice Musazzi, e Chico, il nopoto dell'indimenticato Tony Barlocco, la prima Mabi. In vista dell'Expo non si può restare indifferenti, ci attende un tripudio di bandiere, stemmi e un cd con le canzoni storiche del gruppo, che omaggia sia il mitico cantante Ciro, sia due legnanesi storici scomparsi, Giuseppe Parini e Antonio Luraghi. Passiamo ora alla cronaca cremasca e cremonese. Incidente stradale ieri pomeriggio verso le 15.30 a lungo Via Treviglio, a Crema. Coinvolte tre auto, nuovi feriti, che sono stati trasferiti agli ospedali di Crema, Cremona, Lodi e Bergamo. Dai primi accertamenti svolti dalla polizia, l'origine della carambola sarebbe dovuta ad un'invasione di Corsia. Col primo passaggio degli indirizzi sul piano urbano della mobilità sostenibile in Commissione Ambiente è iniziato il percorso che porterà alla realizzazione di un bando di concorso per l'affidamento dei parchimetri della città attualmente affidati a SCS e gestioni, ma anche per quanto concerne la riconificazione degli impianti di illuminazione pubblica e l'autosostenibilità degli investimenti, attraverso i risparmi ottenuti per una quota non inferiore al 20%. L'obiettivo dell'amministrazione cremasca è quella di migliorare il servizio intervenendo al contempo sul rinnovamento tecnologico. Ampiamente preannunciata, la neve ha imbiancato il cremasco dalle 10 di sabato 27 dicembre creando disagi tutto sommato limitati alla circolazione stradale e senza provocare incidenti. Venerdì sera le vie della città erano state scosparse di sale, 12 le tonnellate impiegate e nella mattinata di sabato altre 3 utilizzate. Si è svolto il 26 dicembre a Vailate il tradizionale appuntamento del presepio vivente. Come ogni anno, un appuntamento da non perdere è il presepio vivente di Vailate. Si svolge come da tradizione il giorno di Santo Stefano. Un appuntamento che porta ogni anno molti visitatori dalle zone limitrofe e non. Per questa 25esima edizione si è scelto di svolgere tutta la scena in via Roma fino alla bellissima chiesa in piazza. Come ogni anno, più di 200 volontari si propongono per vari personaggi, molti sono i veterani. L'attesa al freddo di questi giorni è stata scaldata dallo straordinario spettacolo, iniziato con l'annunciazione e la sfilata dei bimbi dell'asilo e delle elementari del paese, vestiti da angioletti, seguiti dalla Madonna portata sull'asinello, da Giuseppe fino al pianto del bambin Gesù. Molti doni portati dai pastori, ogni personaggio presente, chiusura in bellezza con i doni dei re magi, con i loro bellissimi vestiti importanti e colorati. Se volete saperne di più, non perdetevi lo speciale a Storie e Persone, questo mercoledì alle ore 22.15. Trattiamo ora la cronaca bergamasca. Il conducente della Ford 33enne di Trescore e Balneario non ha potuto fare nulla per evitare la piccola utilitaria. Nell'orto il conducente della Panda è morto e altri due giovani sono rimasti feriti in modo gravissimo. L'incidente si è verificato il 28 dicembre, poco dopo le 8.30 di Eseo, sulla ex statale 510. La vittima del drammatico schianto è un ragazzo bresciano di 19 anni. Vandali hanno danneggiato la statua del presepe allestito dalla Proloco nella fontana di Piazza Garibaldi a Cassano d'Adda. La statua è stata danneggiata sulla testa, la base del collo e su una gamba, nella notte fra il 27 e il 28 dicembre. La piazza Garibaldi, che si trova nel centro del paese, è controllata dal sistema di videosorveglianza comunale. Pocchi giorni fa, però, a caso di un guasso elettrico, le telecamere sono andate fuori uso. Senso unico nel centro di Treviglio. Vediamo. Senso unico nel cuore di Treviglio. L'amministrazione si muove a passo deciso. Dopo le polemiche sull'interramento del parcheggio di Piazza Setti, che hanno creato Maretta nella stessa giunta, la maggioranza sembra ricompattarsi sul progetto che mira a rivoluzionare il traffico cittadino. Se il piano andasse in porto, sarebbe la prima cittadina bergamasca con il centro interamente a senso unico e a misure di bicicletta. Martedì l'annuncio che segna una netta presa di posizione da parte dell'amministrazione Pezzoni, dopo la consegna, dei risultati dello studio affidato al centro studio di traffico di Milano. A gennaio, data ancora da definire, i tecnici illustreranno alla popolazione e alle associazioni i dettagli del progetto di Massima, che una volta definito dovrà comunque passare l'esame politico della giunta e del Consiglio Comunale. A maggio era partita una serie di rilevazioni tecniche con intervisti a campione e agli automobilisti. Ora il centro studio di traffico ha elaborato la soluzione ritenuta ottimale. Concludiamo con la cronaca lodigiana. Le festività non fermano le scorribande dei ladri, che a Lodi continuano a mettere nel merino la nuova piscina e le corsie dell'ospedale. All'impianto della Faustina le direzioni corre ripari. Nei prossimi giorni, infatti, arriveranno nuove telecamere e armadiette di sicurezza, in aree costantemente sorvegliate. L'ardiologia sottosiede al Maggiore, dove venerdì è sparito un telefonino. Blitz di Natale della Polizia di Lodi, che assicura alla giustizia una banda specializzata in assalti nelle abitazioni. A finire i manetti sono stati tre albanesi residenti a Sant'Angelo, accusati di aver messo segno colpi nel Lodigiano e in diverse altre province del nord. Le indagini sono partite nel monitoraggio di una macchina lasciata da giorni parcheggiata in un centro della provincia di Lodi e sono culminate con la decisione del procuratore russo di sottoporre i tre a fermo di polizia giudiziaria per furto e ricettazione. Era uscito per fare una passeggiata in mountain bike e è stato trovato morto in un canale a pochi metri da casa, dopo due giorni di ricerche. Dramma nella bassa Lodigiana Senna, dove un uomo di 64 anni è stato rivenuto cadavere in una roggia. Antonio Magnani, che viveva da solo in una frazione del paese di fianco all'abitazione della sorella, era uscito nel pomeriggio di giovedì. E' in arrivo il grande gelo nel sud di Milano. Tutto come previsto. Dopo una notte fredda, l'annunciata nevicata si è scatenata sull'Odigiano e sud Milano, lasciando a terra un manto bianco di alcuni centimetri. Intorno alle 15 la neve ha smesso di cadere sui centri abitati e campagne. Non sono stati registrati accumuli particolari. Il traffico sulle arterie più importanti al momento risulta regolare. Resta però il pericolo dalle gelate notturne, poiché un forte abbassamento dalle temperature è scattato già dalle primissime ore di domenica mattina. Gli ultimi giorni dell'anno si prospettano gelidi su gran parte del paese a causa di venti molto freddi, in arrivo direttamente dalla Siberia e dalla Russia, che faranno piombare le temperature fino a meno 12-15 gradi centigradi. Avremo così un capodanno con gelate notturne. Grazie per l'attenzione, Quotidiano TV termina qui. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Grazie per l'attenzione.